Per Francesco Totti è positivo, con l'ex moglie Hilary Blasi sta per essere raggiunto un accordo per la separazione. Lo scrive il Corriere secondo cui, proprio di recente, l'ex capitano della Roma ha confidato di essere certo che verrà tracciata una strada pacifica per chiudere, legalmente il matrimonio con la conduttrice. Sarà quella firma a sancire l'addio definitivo tra i due che da tempo hanno smesso di comportarsi come persone che si amano follemente da circa 20 anni. Ora che anche Hilary è passata tra le braccia del bel Bastian, non resta che attendere gli avvocati delle due parti in causa affinché Francesco e la sua ex moglie possano firmare un accordo di separazione che soddisfi entrambe le parti. L'avvocato Antonio Conte per Totti e l'avvocato Alessandro Simeone per Hilary starebbero trattando per evitare ai rispettivi assistiti una sanguinosa separazione giudiziaria che rappresenterebbe un costo enorme, anche in termini umani. E Totti, che conosce i dettagli di tale trattativa, si sarebbe dimostrato talmente positivo che, negli spogliatoi dopo la partita di futsal tra la sua Totti Wies e la Roma, in risposta a una battuta l'ex capitano ha confidato, mi costerà molto, ma ora è tutto risolto con Hilary. Hilary avrebbe aspettato che Totti ufficializzasse la sua relazione con Noemi Bocchi prima di uscire allo scoperto. Poche settimane dopo che l'ex marito si è presentato a Dubai per i Globe Soccer Awards meno a braccetto con la nuova fidanzata, Hilary è stata fotografata accanto al possente Bastian. Si tratta del primo uomo, un imprenditore tedesco, accanto al quale la conduttrice dell'Isola dei Famosi sia mai stata fotografata, nonostante i numerosi amanti che le sono stati attribuiti nel corso dei mesi.